Strategie di sviluppo locale per condividere insieme ad aziende pubbliche e private potenziali idee, progetti di necessità e fabbisogni del territorio. Sono questi gli obiettivi che si sono imposti i comuni appartenenti al Galla Nuovo Fior d'Olivi per il quinquennio 2023-2027 attraverso una prima serie di incontri, aperti anche al pubblico, che si sono svolti nei giorni precedenti nei comuni di Giovinazzo, Binetto, Palo, Grumo, Bitonto, Modugno e Terrizzi. Tutte realtà locali, queste con specifiche necessità, ma accomunate da un grande progetto. Stiamo spiegando le aree tematiche che la Regione, attraverso la partecipazione al bando che il Galla effettuerà, i sei ambiti tematici appunto che ci ha inserito. Ogni Galla dovrà scegliere due tematismi da sviluppare nella programmazione 2023-2027. Come consono in genere nelle abitudini del Galla che attua una progettazione dal basso, queste indicazioni le avremo dai cittadini, dai commercianti, dagli agricoltori del territorio. Come comunità binettese abbiamo la necessità di incrementare soprattutto l'aspetto turistico del nostro territorio, tenuto conto che nei prossimi anni dovrebbe svilupparsi, anzi più che dovrebbe, dovrà svilupparsi l'autodromo dell'Evante, che è stato oggetto di un finanziamento importante da parte dell'ACI mobiliare e quindi si prevede che possa dare diverse opportunità al nostro territorio. Sono molto contento di questa iniziativa perché rilanceremo le attività di una struttura di cui siamo ovviamente soci, che ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del nostro territorio. Il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali agricole e non agricole ovviamente sarà la chiave di volta per fare in modo che questi finanziamenti, queste risorse che siamo riusciti ad ottenere potranno avere delle ricadute positive sul territorio, potranno generare ricchezza e magari anche della buona occupazione. Questo bando è un'opportunità per questo territorio prevalente agricolo, soprattutto parliamo di coltivazione di olive e di olio e quindi è l'occasione giusta per poter proporre iniziative che servono a promuovere il territorio e il prodotto agricolo. Perché noi abbiamo un grande problema, siamo bravi nel produrre, siamo bravi nel produrre un prodotto di qualità ma abbiamo un limite che è quello di poi poter vendere il prodotto, quindi farlo conoscere. Questa è un'occasione importante e strategica per continuare a fare rete tra tutti i comuni che aderiscono con orgoglio al GAL Nuovo Fior d'Olivi e le linee verso cui indirizzare la nostra attenzione sono quelle di crescita del territorio in ottica di turismo ed economia sostenibile, valorizzazione dei nostri luoghi rurali ma anche dei luoghi di interesse storico e artistico e perché no valorizzare anche e soprattutto le realtà produttive locali. Diciamo che questo bando si inserisce in quelli che sono gli assi strategici della nostra città e cioè l'asse turistico, l'asse sociale, l'asse dello sviluppo economico, l'asse culturale, l'asse enogastronomico. Quindi noi crediamo fortemente in questa possibilità che ci viene offerta dal finanziamento regionale, dal bando regionale e siamo convinti che il GAL possa proporre un progetto complessivamente ottimo per la nostra comunità. La nuova programmazione del piano di sviluppo rurale, quella connessa ai GAL, costituisce per i territori un'importante opportunità di condivisione di strategie per il rilancio del settore dello sviluppo rurale. Oggi qui a Terrizzi si celebra un incontro territoriale volto proprio ad acquisire, secondo l'approccio leader, dalla popolazione, dalle categorie produttive, dagli imprenditori, quelli che possono essere i loro principali interessi rispetto alla declinazione di questo piano che poi entro il 16 ottobre il comune di Terrizzi insieme agli altri sei comuni candiderà al bando di finanziamento. Gli incontri sicuramente continueranno nei prossimi giorni e di questo ve ne renderemo conto per cercare di migliorare ancora di più un territorio sempre più a contatto con il futuro. Grazie a tutti.